ancora grazie a tutte e a tutti siamo un'ennesima lezione di la scuola interdisciplinare cosmopolita oggi affronteremo un tema cruciale come quello della scuola dell'insegnamento della formazione di quello che dovrebbe essere l'insegnamento di cittadinanza e per questo ringraziamo marina bosca ino che è qui con noi e do innanzitutto la parola a piero che presenterà la lezione di oggi con diciamo di ricordo di chiudere i microfoni in modo da non interferire con chi sta parlando piero a te la parola bene grazie roberto grazie a marina boscaino per aver accettato il nostro invito una breve presentazione marina è una docente di italiano e latino in un liceo di roma e la portavoce dei comitati no ad ogni autonomia differenziata fa parte del comitato tecnico scientifico di proteo fare sapere e dell'associazione per la scuola della repubblica dirige un blog collabora collabora a micromega dico subito che marina boscaina è una delle poche insegnanti italiane a me troppo poche che unisce a un sistematico assiduo impegno di insegnante a quella alla battaglia e alla militanza e alla militanza politica e voglio dire che io ho proprio voluto una per questa lezione sulla scuola una persona come marina boscaino perché volevo volevo un insegnante non uno studioso della scuola c'è una persona che la scuola la vive da decenni la conosce bene con intelligenza con spirito critico con impegno civile quindi credo che non potevamo trovare persona migliore tra l'altro anche una donna perché giustamente molti si lamentano che ci sono troppi maschi diciamo a tenere le lezioni faccio il mio colpa ma vi assicuro che io cerco di fare il mio meglio e non sempre è facile non sempre è facile trovare la persona giusta allora parliamo di scuola la scuola che l'istituzione l'istituzione fondamentale per la formazione del cittadino democratico come sapete è la base fondativa di ogni possibile mobilità sociale e la base della possibile uguaglianza tendenziale nella società contemporanea allora naturalmente marina ci racconterà quello che è diventata la scuola negli ultimi decenni io provo molto rapidamente si intende a fare un po di storia del come si è arrivato sin qui e io metterei come punto d'avvio è una data che il 1999 quando c'è nasce il cosiddetto processo di bologna che un'iniziativa per certi versi anche lodevole da parte della nascente unione europea cioè quello di creare un comune spazio universitario continentale e uniformare i criteri di valutazione e così rendere rendere l'europa più unita più comunicante e così via e tuttavia questi aspetti diciamo diventeranno sempre più marginali perché assumerà rilevanza un'altra un'altra tendenza non a caso l'attenzione immediatamente rivolta all'università ma investirà tutto il sistema formativo europeo e l'università deve attenersi a quello che viene chiamato il new public management cioè la scuola deve essere e l'università devono essere gestiti secondo criteri di funzionalità gestionale ed economicità cioè come un'azienda un'azienda sia pure un'azienda pubblica che deve stabilire gli investimenti deve rispondere a criteri di produttività quanti laureati e si 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 producono il termine produzione entra nell'università io ricordo prima di andare via dalla sapienza ho litigato con il lettore per una circolare nella quale secondo il nuovo linguaggio i titoli accademici gli scritti i saggi i libri dei professori venivano chiamati prodotti no era il nuovo spirito capitalistico brutale che entrava che entrava nell'università allora il fatto è che il il diciamo il processo di bologna si iscriveva nel trattato di maastricht del 92 che definiva le linee diciamo di politica economica di strategia economica di tipo neoliberistico dell'europa l'europa doveva porsi come potenza economica che gareggiava con le altre potenze economiche quindi doveva sottomettere sottoporre a stringenti regole di produttività anche il sistema formativo dei singoli dei singoli paesi dell'unione allora naturalmente il il pensiero il pensiero neoliberista fatto da da supporto no a a questa a questa visione delle delle strutture formative che dovevano produrre persone in grado in grado di rendere più agile più ricca più potente l'economia l'economia del paese a prescindere diciamo dalle conseguenze sociali non 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 neppure parliamo delle conseguenze delle conseguenze ambientali allora ora finisco rapidamente quando noi parliamo del diciamo della dell'imposta della impalcatura ideologica neoliberista dobbiamo anche immaginare l'economia reale no la realtà concreta allora questa 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 realtà concreta è stato l'avanzare del processo di globalizzazione no che ha come dire trascinato in un vortice tutte le economie mondiale ma in italia come per la verità anche in altri paesi ma nel nostro in maniera specifica con una specificità storica dirompente questo processo di trasformazione diciamo della società in senso neoliberista dell'economia della società in senso neoliberista è stata condotta fondamentalmente dai partiti di sinistra in primo luogo dagli eredi del partito comunista italiano il pdsds il pd cioè delle forze che hanno dato hanno lavorato a creare presso i centi presso la classe operaia i centi popolari che venivano colpiti dalle nuove politiche neoliberisti il consenso presso i centi padronali cioè il il capitalismo ha avuto come strumento di affermazione in italia delle proprie direttive delle proprie strategie la forza politica che un tempo rappresentava la classe operaia i centi e centi popolari allora questo lo dico perché siccome in questi giorni si parla di vento di destra in realtà noi siamo dentro una bufera non un vento una bufera che è iniziata da tanto tempo e che è questa cioè i partiti che che rappresentano la classe operaia l'hanno consegnata l'hanno consegnata in mano ai ceti ai ceti padronali e così anche la scuola della istituzione della della costituzione è finita per diventare una diciamo no una fabbrica di come dire di cittadini disciplinati dotati di competenze che devono servire la macchina economica ne ho parlato troppo do subito la parola a marina grazie piero e condivido lo schermo mi confermate che vedete bene perfetto ok allora grazie prima di tutto per l'invito grazie a piero bevi l'acqua trasforma io ho seguito molte delle lezioni che ci hanno scandito quest'anno i miei anni naturalmente sono sempre anni scolastici però mi è capitato molto frequentemente credo che questa sia davvero un un elemento importante proprio per noi per fare la sintesi e sottolineare quelli che sono i principi a cui dobbiamo continuare a credere se vogliamo provare a creare un'alternativa e sicuramente all'interno come diceva piero all'interno del dell'istituzione scolastica proprio perché quei gruppi padronali di cui si diceva sono stati fortemente intenzionati a creare un'egemonia culturale la scuola è diventato un elemento di contesa e di appropriazione che ha in virtù di questa contesa e questa appropriazione ha assunto poi una direzione eh di accoglimento purtroppo spesso senza contrasto da parte di chi nella scuola eh lavora di istanze che appunto fanno riferimento alla 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 logica capitalista genere si dice che la scuola sia la cenerentola dell'agenda politica nel nostro paese da un certo punto di vista è vero perché vi sarete resi conto che anche nelle ultime elezioni la scuola è stata spesso evocata è stata evocata in maniera demagogica parlando dei salari dei docenti che sono i più bassi d'Europa eccetera eccetera poi la scuola cade nel dimenticatoio dopo i vari proclami pre elettorali ma rimane diciamo lo zoccolo duro come cercherò di spiegare di un'intenzione che parte molto da molto lontano e in ogni caso pesanti attenzioni di agenti politici ed economici e culturali hanno accompagnato il percorso della scuola negli ultimi decenni la scuola è diventata nel corso di questi decenni in particolare mi sto riferendo ai decenni che vanno dall'inizio degli anni novanta anche se vedremo che le origini sono addirittura precedenti è stata è diventata un'azienda tra le aziende del territorio nella società di mercato specializzata come vedremo queste parole sembrano delle forzature ma in realtà non lo sono sono parole riprese da documenti nell'erogazione di un bene formativo con il compito di promuovere sin dal primo ciclo l'educazione all'autoimprenditorialità di uno studente che deve avere necessariamente alcuni requisiti adattabilità flessibilità competitività ed efficienza operativa che sono gli elementi i prerequisiti appunto richiesti dalle imprese e eh essere fornito e qui vedremo poi a vedere che cosa fa il PNRR sulla scuola di quelle competenze tecnologiche indispensabili alla riproduzione del del sistema di questo sistema che eh diciamo vuole eh assumere attitudini blindate quindi è molto difficile perbearlo la scuola è diventata un laboratorio pedagogico di un modello distopico di società che ruota intorno appunto alla cultura d'impresa fondata sul primato dell'economia e sulla sua pretesa di colonizzare qualsiasi ambito della nostra vita rimodellando le condotte individuali e le politiche sociali secondo i principi dell'interesse individuale della competizione come vedete da queste che sono delle citazioni poi vedremo da dove le ho prese queste citazioni si invera un modello di società che eh è perfettamente convergente e che ha visto diciamo attitudini convergenti l'attitudine al modo in cui è stato gestito il lavoro per creare quella società soprattutto che è la società neoliberista. Allora eh negli anni sessanta che cosa accade? Accade che l'economics of education ripensa il ruolo dell'educazione. Siamo negli Stati Uniti, l'istruzione serve ed è qui la prima volta che eh troviamo quest'occorrenza questa orribile polirematica capitale umano e tra la fine degli anni cinquanta e l'inizio degli anni sessanta ci si impegna a calcolare quale sia il ritorno economico degli investimenti in educazione. Per esempio Minzer della scuola di Chicago nel cinquantotto dice propongo di trattare l'istruzione come investimento sull'uomo e le conseguenze come una forma di capitale. Dal momento che l'istruzione diventa parte di una persona che la riceve la chiamerò capitale umano. L'ipotesi è che alcuni importanti aumenti del reddito nazionale siano conseguenze dell'aumento dello stock di questa forma di capitale. Penso non occorra eh sottolineare che questo capitale è fatto anche di bambine e bambini di ragazze e di ragazzi. Sempre nel sessanta sempre con la scuola di Chicago Theodor Schulz dice che l'istruzione è fonte di crescita economica in quanto fa aumentare la produttività i guadagni futuri delle persone. Ogni aumento del reddito nazionale deriva dalla quantità dello stock di capitale e umano. Infine il terzo teorico fondamentale della scuola di Chicago Arrow dice che l'istruzione superiore in questo modello non contribuisce in alcun modo nel modello attuale alle prestazioni economiche superiori non aumenta né la conoscenza né la socializzazione attuale per allora naturalmente serve al contrario come dispositivo di screening in quanto individua persone di diverse abilità trasmettendo così informazioni a chi compra lavoro. Allora si parlava prima lo dicevamo prima nel fuorionda di egemonia culturale. Che cos'è l'egemonia culturale? È un pensiero che diventa dominante in un momento storico e consente ai gruppi di potere di esercitare una forma di controllo costante sulle persone grazie al fatto che esso viene assunto nelle pratiche sociali e quindi costantemente interiorizzato e diffuso. Questo pensiero egemonico è naturalmente una visione del mondo e diciamo e colonizza le menti rendendo difficile uscire dallo schema interpretativo imposto. Nella terminologia economica i figli non riesco a leggere bene però questo è un pensiero di Becker che dice che i figli sono fonte di soddisfacimento psicologico o di soddisfazione comunque per i genitori. Quindi lui sostiene che nella terminologia economica i figli si possano considerare un bene di consumo. Questa probabilmente è la frase più scioccante tra quelle che ho senzionato. Questa caratteristica fa dei figli un bene durevole sia produttivo che di consumo. Può sembrare eccessivo artificiale dice Becker. Forse anche immorale classificare i figli estregue di automobili, casi o macchinari cioè il dubbio gli è avvenuto. Questa classificazione però non implica che le soddisfazioni o i costi associati ai figli siano gli stessi da un punto di vista morale di quelli che corrispondono ad altri beni durevoli. Cioè i figli come beni durevoli e le soddisfazioni e i costi associati ai figli corrispondono, siano analoghe a quelle dei beni durevoli. Allora a un certo momento della storia della costruzione del percorso dell'Unione Europea e mi riferisco al periodo dell'istruttoria che poi perverrà al trattato di Maastricht, al trattato fondativo, nel 1983 si determina la creazione di una tavola rotonda europea degli industriali. Questa tavola rotonda, l'acronimo è ERT, si tratta di un gruppo di pressione che riunisce una quarantina tra i più potenti dirigenti industriali europei. Per noi c'era Paolo Fresco della Fiat, poi c'era la Nestlé, la Volvo, il BP, Lufthansa, insomma le grandi aziende. Che compito aveva questa ERT, questa tavola rotonda europea? Doveva provvedere a fare delle analisi delle politiche europee nell'ambito di vari e diversi settori e formulare di conseguenza le proprie raccomandazioni che coincidevano naturalmente con i propri obiettivi strategici. Un gruppo di lavoro ed educazione proprio perché si comprende immediatamente che per costituire quel modello di mondo bisognava mettere potentemente e violentemente le mani nell'istruzione e quindi si crea questo gruppo di educazione dell'ERT che pubblica un primo rapporto intitolato educazione e competenza in Europa. In questo luogo, in questo contesto, nell'89 si afferma per la prima volta l'importanza strategica e vitale della formazione e dell'educazione per la competitività europea e si perora un rinnovamento accelerato dei sistemi di insegnamento e dei loro programmi. Ed ecco infatti che nell'89, prima di tutto, c'è chi all'interno dell'ERT lamenta il fatto che gli insegnanti non abbiano comprensione sufficiente dell'ambiente economico, degli affari e della nozione di profitto e non comprendono i bisogni dell'industria. Anche i programmi sono deficitari secondo l'ERT da questo punto di vista e quindi si suggerisce di moltiplicare i partenariati tra le scuole e le imprese e quindi si invitano poi tutti gli industriali a prendere parte attiva allo sforzo educativo e qui diciamo c'è la prima presa d'atto di una, uso quest'orri da parola scusatemi, necessaria sinergia tra mondo dell'impresa e scuola e chiede ai responsabili politici di coinvolgere l'industria nella discussione concernente l'educazione. 1995 non vi sfuggirà che il nostro sistema scolastico è prima di tutto commentato ed orientato da una serie di strutture che hanno molto a che fare con l'azienda. Pensiamo prima di tutto alla Fondazione Agnelli, alla Fondazione San Paolo che ultimamente e per ultimamente mi sto considerando il tempo che va da quel 99 di cui parlava Piero che anche l'anno in cui viene istituzionalizzata l'autonomia scolastica, ecco diciamo che la politica scolastica la fanno sostanzialmente loro anche perché trovano una buona convergenza come si diceva anche precedentemente tra gli orientamenti e le intenzioni dei partiti, dei gruppi di centrodestra con quelli dei centrosinistra. Si muove un rimprovero alle scuole nel 95. Nella maggior parte d'Europa le scuole devono essere integrate in un sistema pubblico scienzializzato, sono integrate, non devono essere integrate, gestito da una burocrazia che rallenta la loro evoluzione e le rende impermeabili le domande di cambiamento provenienti all'esterno. Per chi come me lavora scuola sa che detto fatto noi usi ad obbedir tacendo nel 99 appunto ci mettiamo una pezza rispetto a questo rimprovero dell'ERT e lì si comincia tutta la procedura per determinare l'autonomia scolastica, cioè il sistema centralizzato si stempera in una soggettività proprio di carattere giuridico costituito da ciascuna istituzione scolastica che diventa autonoma e chiede anche l'ERT di creare lavoratori autonomi in grado di adattarsi a un continuo cambiamento e di accettare senza posa nuove sfide. Diciamo tra le varie orticarie che la neolingua mi provoca credo che la parola sfida sia quella che mi crea più già diciamo. Nel 97 sempre l'ERT non c'è tempo da perdere la popolazione europea deve impegnarsi in un percorso di apprendimento permanente a tal fine sarà necessario che sarà il long life learning e sarà necessario che tutti gli individui che imparino si muniscano di strumenti pedagogici di base proprio fanno come fanno con la televisione. Nel 92 appunto il trattato di Maastricht che affida che ha una competenza in materia di istruzione si crea una direzione generale dell'educazione diretta dalla socialista francese Cresson. Si tratta di una sorta di diciamo così in termini embrionali di ministero europeo delle dell'educazione in cui Madame Cresson mette rapidamente in azione un ulteriore gruppo di riflessione. Il gruppo di riflessione sull'educazione e la formazione che è presieduto dare effetti. Conseguenze e raccomandazioni le conseguenze sono il libro bianco di Delors del 93 crescita competitività e occupazione nel 95 il libro bianco Cresson Flying insegnare a prendere verso la società cognitiva. Che cosa esce fuori? Adattandosi alle caratteristiche dell'impresa dell'anno 2000 siamo diciamo quasi alle soglie della strategia di Lisbona che i sistemi di educazione e di formazione potrebbero contribuire alla competitività europea al mantenimento dell'occupazione. Vedete questa parola competitività che ricorre e quindi una teleologizzazione diciamo della scuola alla dimensione competitiva che deve essere naturalmente profondamente consapevole di un'egemonia economica dell'egemonia economica della società dell'economia nella società che si andava creando. L'Unione europea si trova di fronte ad una svolta formidabile indotta dalla mondializzazione e dalle sfide relative a una nuova economia fondata sulla conoscenza. Da quel momento l'insegnamento europeo deve piegarsi ad un obiettivo strategico cioè deve essere lo strumento attraverso il quale l'Europa diventerà l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo capace di una crescita economica duratura. E noi che cosa stiamo facendo nel frattempo? Noi invece stiamo cavalcando siamo all'inizio del 2000 o comunque con il libro bianco di Delore e con quello della Cresson nel 93 e nel 95. Noi abbiamo la nostra bellissima Costituzione che guardate riserva alla materia istruzione ben due articoli. Pensate che al diritto alla sanità, alla salute e come sapete diritto universale è riservato un unico articolo, l'articolo 32. Ecco la scuola, alla scuola i costituenti decisero non a caso anche guardando gli atti della costituente si evince di sottolineare l'importanza centrale per determinare la tenuta della Repubblica Democratica fondata sul lavoro citata l'articolo 1 della scuola in cui i cui contenuti di questi articoli non leggo perché c'è una sentenza della Corte Costituzionale che vi leggerò dopo che li riassume in maniera prodigiosa ma quello che mi interessa moltissimo è sottolineare in particolare il dialogo che questi due articoli intrattengono con il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione cioè con l'articolo, col comma che definisce il principio di uguaglianza sostanziale. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Secondo me in questo articolo in cui è evidente che la Repubblica si dota come strumento privilegiato per rimuovere gli ostacoli cioè per rendere le condizioni dell'esistente e le differenziazioni dell'esistente meno problematiche e meno limitative per chi ha meno io ci risento moltissimo l'eco del concetto di sapere disinteressato di gramsciana memoria cioè un sapere e dunque l'istituzione del sapere la scuola che diventa lo strumento attraverso il quale la Repubblica garantisce il principio di ugualianza attraverso quello il modo di dire che a me non piace ma è rapido l'ascensore sociale costituito dalla scuola e garantisce altresì l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Guardate questo è il motivo per cui io sono diventata insegnante. Lo dissi 15 anni fa davanti a Stefano Rodotà in un affollatissimo convegno. Io ci credo davvero che il progetto della scuola della Costituzione abbia questo tipo di scopo, abbia questo tipo di finalità e debba mantenere questo scopo e questa finalità assegnata alla scuola della Repubblica. Il problema è vedere che cosa è successo nel frattempo. Noi eravamo impegnati come stavo dicendo nella costruzione della Repubblica Democratica fondata sul lavoro con quei due articoli importantissimi di cui poi vedremo i contenuti che dialogano con il secondo comma dell'articolo 3 ma non solo. Dialogano con l'articolo 2 col principio di solidarietà, dialogano con l'articolo 9 cioè la tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Rialano con l'articolo 21 cioè la libertà di espressione. Non a caso il primo comma dell'articolo 33 recita, come penso tutti sappiamo, l'arte e la scienza sono libere e libero nell'insegnamento. Il deterrente migliore per determinare la possibilità che quel che era accaduto negli anni 20, negli anni 30 e in parte degli anni 40 non succedesse mai più. Ed è per questo che avremmo dovuto tenere cara almeno quanto il sistema sanitario nazionale e anche il sistema scolastico nazionale. la scuola della Repubblica come piace chiamarla a me ma e questo evidentemente non è stato. Ci sono molte insidie e tante tante cose terribili sono accadute nel frattempo. Era un sistema attraverso diciamo il dialogo tra questi articoli della Costituzione che poneva la centralità della persona umana che guardate è una premessa ed una promessa della nostra Costituzione. Una delle polirematiche persona umana più incisive, più incidenti all'interno del testo costituzionale, così come la parola partecipazione. Garantiva il diritto allo studio, la libertà di insegnamento di cui parlavamo prima, il diritto alla cultura, alla libertà di espressione e di pensiero. Garantiva, ve lo ricordo anche, che i capaci e meritevoli, come recita l'articolo 34, benché prima i mezzi devono essere messi nella possibilità di raggiungere i livelli più alti di istruzione. Sulla base di questi, di quei tre articoli e di quelli che ho citato, si sono determinati dal punto di vista normativo nella prima parte, diciamo, del nostro percorso post-costituente una serie di leggi che sono fondamentali, per esempio quelli della scuola media unica. Gramsci diceva, nella situazione attuale di divisione sociale delle funzioni, certi gruppi sono limitati nella loro scelta professionale, intesa in senso largo, da diverse condizioni economiche non poter attendere e tecniche. Ogni anno di più di scuola modifica le disposizioni generali in chi deve scegliere la professione. Allora, inserire nel 62 la legge che ha reso scuola media unica ha significato garantire il diritto allo studio, almeno al compimento della terza media e soprattutto non divaricare il percorso precedente come invece accadeva in precedenza. Quindi mettere, provare a mettere tutti, almeno diciamo in condizioni che potremmo in questo momento considerare essenziali, primarie, preferirei dire, di alfabetizzazione, quindi di consapevolezza, quindi di possibilità di fare delle scelte consapevoli. Nel 1973 c'è un'altra cosa straordinaria che pure abbiamo dilapidato. Le 150 ore il contratto nazionale dei metalmeccanici, pensate un po', introduce il diritto, poi esteso ad altri contratti nazionali, di impiegare una quota del tempo di lavoro in istruzione. Mi sembra una cosa magnifica, mi sembra purtroppo una cosa magnifica di una preistoria ormai lontanissima, cioè estensione del diritto allo studio e riduzione del tempo di lavoro, perché il diritto allo studio rende il lavoratore migliore e fa parte dei diritti universali delle persone. Vedremo poi cosa se ne è fatta di questa normativa. Nel 1971 viene istituita la scuola a tempo pieno, cioè si dà la possibilità, per esempio alle donne, con la legge 820-71, di andare a lavorare. Si dà la possibilità ai bambini di vivere, le bambine, di vivere un tempo scuola più ampio, nel quale fare anche altre cose, giocare, fare compiti, stare in socialità. Sono tutti elementi importantissimi, purtroppo questa legge è stata violata sin dall'inizio, adesso io non ho tempo purtroppo di darvi le statistiche dell'evoluzione, del sviluppo del tempo pieno sul territorio nazionale, ma è un'evoluzione totalmente iniqua, che ha contribuito anche all'arretramento di molte regioni del meridione. Vengono elaborati dei programmi straordinari, vedete noi siamo molto affezionati a questa parola programmi, perché la parola programmi, in particolare programmi della scuola media delle scuole elementari e della scuola materna, 1979-85-91, richiedevano anni di riflessione, riflessione non solo di docenti universitari, ma di pedagoghi, di giuristi, di insegnanti, di presidi, che stavano lì a riflettere, a meditare, senza il bilancino dell'economicismo, come invece poi attraverso una malinterpretata tendenza alla semplificazione si è fatto poi. Qui le cose si complessificavano, perché si sapeva di avere a che fare con un'istituzione complessa, un'istituzione fatta da persone umane, ciascuna con le proprie caratteristiche, e ognuna di quelle persone umane aveva la possibilità, attraverso la lungimiranza di questi programmi ed anche la capacità in particolare, devo dire, sono state straordinarie nella nostra storia, io insegno al liceo classico, quindi non mi prendo questo merito, nella nostra storia nazionale l'importanza delle maestre delle scuole elementari e della scuola materna. Ora non si chiamano più elementari scuola materna, scuola materna che era stata intanto istituzionalizzata con la legge 444 del 68, appunto qualche anno prima, anche se anche qui ci sono state varie diverificazioni, ma da quell'anno, dal 68, diciamo all'interno degli ordinamenti scolastici c'entra anche quella che allora si chiamava scuola materna ora si chiama scuola dell'infanzia. I decreti delegati, legge delega 477 del 73, che immaginano quel luogo complesso di cui dicevamo come un luogo prima di tutto democratico, ovvero un luogo equiordinato in cui ciascuna parte di quelle funzioni che venivano attribuite a degli organi, il consiglio di istituto, il collegio dei docenti, le assemblee studentesse, studentesche e così via, aveva una propria funzione ed aveva una propria equiordinazione rispetto agli altri. E poi, infine, la legge 104 del 92, che rispondeva in maniera straordinaria al primo comma dell'articolo 34, cioè la scuola è aperta a tutti. Ecco, tenete presente che la scuola italiana per lunghissimo tempo è stata l'unica scuola europea a non avere classi speciali e scuole speciali. Questa straordinaria legge sull'inclusione prevedeva naturalmente dotazioni di organico molto consistenti alla stessa tregua che di organico su disciplina, organico su sostegno. Ecco, tutto questo purtroppo è stato deviato più o meno ferocemente dalle persone che vedete ritratte qui. Purtroppo c'è anche il mio carissimo professore di filosofia del linguaggio, Tullio De Mauro, a cui, ma di queste discussioni ne abbiamo fatte tantissime. Questi sono stati alcuni dei ministri dell'istruzione, una volta istruzione, una volta pubblica istruzione, come sapete adesso istruzione e del merito, una volta istruzione e università, che hanno scempiato in qualche modo, più o meno ferocemente, come dicevo, il volto della scuola italiana. Infatti, la prima domanda a cui sono parlata, la scuola non è nell'agenda dei governi. Sì, è moltissimo. Queste sono alcune delle norme che hanno, diciamo, totalmente invertito la direzione di marcia rispetto alle norme di cui abbiamo appena parlato. Prima di tutto l'autonomia scolastica, che ha due passaggi, che comunque viene definitivamente ratificata nel 99 con la legge Bassanini e purtroppo anche costituzionalizzata nella revisione del titolo quinto della Costituzione del 2001. Le scuole, dicevamo, diventano delle monadi autonome, ma questo rendersi monede autonome le rende, diciamo, elemento di mercato. Mercato inizia attraverso l'operazione dell'autonomia scolastica una serie che sarebbe veramente molto lungo spiegare, però di conseguenze sull'assetto della scuola che riguardano soprattutto quella parola competitività. Competitività perché perdere studenti, ve la dico male e brevemente, significa sostanzialmente perdere utenti, quindi significa perdere finanziamenti, quindi significa perdere posti di lavoro, quindi significa l'ipotesi di poter essere accorpati ad altre scuole, quindi si è perso di vista completamente la finalità, già dal 97-99, la finalità della Scuola della Repubblica e si è invece centralizzata il telos della scuola sulla capacità di sostenere la competizione all'interno dei territori. C'è poi la legge 62 del 2000, la parità scolastica, la quale disdice, sconfessa completamente il dettato dell'articolo 33, che come forse sapete dice che enti e privati possono istituire scuole di ogni ordine e grado purché senza oneri per lo Stato. Invece nel nostro paese, nel 2000, ad onta di quel comma importantissimo, la scuola viene, le scuole private, alcune scuole private, vi dico con dei criteri estremamente laschi, cioè assumere la parità scolastica non è affatto difficile, vengono parificate alle scuole statali, alle scuole pubbliche, diciamo perché c'è la particolarità che l'asilo, cioè la scuola materna, sia comunale, quindi diciamo scuole pubbliche, possa essere comunale, quindi diciamo le scuole pubbliche. Questo naturalmente non fa altro che fagocitare ulteriormente quel concetto, il concetto di competizione, perché naturalmente, sapete, la scelta libera della famiglia di mandare o meno un proprio figlio in una scuola paritaria non è, non si conclude semplicemente nella libertà di quella scelta, ma si determina anche attraverso i finanziamenti che lo Stato, ovvero le nostre tasse, le tasse di tutti noi cittadini e cittadini, erogano puntualmente alle scuole paritarie. Guardate, è una percentuale di erogazione di finanziamenti che non è stata scalfita nemmeno nel 2008 quando c'è stato il più grande taglio alla scuola pubblica, della storia della scuola della Repubblica, cioè la riforma Gelmini che tagliò 67 mila posti di insegnante, circa 50 mila posti di altri lavoratori della scuola per un ammontare di 8 miliardi, mentre si piangeva su uno dei tanti drammi all'Italia che si sviluppavano in quel momento. La revisione del titolo quinto della Costituzione, come vi dicevo, è un altro tassello fondamentale che affronterò più tardi, ma vi basti sapere appunto che la revisione del titolo quinto costituzionalizza, come vi dicevo prima, l'autonomia scolastica. Viene istituita nel 2001, ed è sempre una conseguenza della legge Bassanini, con il decreto 165 di quell'anno, la dirigenza scolastica, cioè il preside, che era il primus inter pares, cioè colui che stava all'interno del collegio tra pari, ma con una autoritas diversa, smette di essere tale, un preside che appunto, essendo diciamo il conduttore del collegio docenti, si occupava di materia didattica, entrava nelle classi, conosceva gli studenti, eccetera, eccetera, diventa dirigente scolastico, con una serie di oneri incredibili, con una serie di responsabilità altrettanto incredibile, con un profilo che progressivamente nel corso degli anni che sono intercorsi dal 2001 ad oggi, cioè 22 anni, si è sempre più, diciamo, volto ad un profilo manageriale. Nel 2003 arriva la famosa riforma delle trei, chi è anziana come me, se la ricorda benissimo, grande battaglia, la scuola delle trei, le trei erano impresa internet e inglese, e questo stiamo parlando del decreto legislativo, del decreto legge 53 del 2003, contro il quale, diciamo, attraverso il quale si comincia prima di tutto ad indebolire la parte forte, quella che tutta la pedagogia europea considera la parte più forte del sistema scolastico italiano, cioè la scuola elementare, che diventa da quel momento scuola primaria. Della riforma Gelmini, come vi ho detto, i tagli sono stati straordinari, guardate, il taglio non è solamente nella scuola naturalmente un problema di personale, è un problema culturale, è un problema di indirizzo culturale, perché? Perché tagliando le cattedre si tagliano anche gli insegnamenti, ed è proprio dalla riforma Gelmini che esce il coniglio dal cilindro di togliere un'ora di lingua 1, cioè di lingua italiana, nel biennio della scuola superiore, tutta, da cinque ore diventano quattro ore, e di creare quel mostro epistemologico, dalle due più due ore di storia e geografia, sempre nel ginnasio, che è diventata la geostoria. Qui ci sono i decreti Brunetta, che infieriscono fortissimamente sulla dimensione della valutazione e degli insegnanti, criteri profondamente punitivi. Il DPR 80 del 2013 istituzionalizza il sistema nazionale di valutazione. Tutta la partita della valutazione naturalmente è una partita enorme e di enorme portata politica e culturale, perché vedete, quando la valutazione si rappresenta, per esempio, per fare un esempio che sicuramente anche chi non è docente transita attraverso i test invalsi, può anche accadere, come è accaduto nella mia classe di quest'anno, che il test invalsi prevedesse di rispondere a crocette su dei quesiti sulla casa dei doganieri di Eugenio Montale, cioè forse la lirica più bella che è stata mai scritta nel novecento, almeno secondo me. E quindi significa sostanzialmente dire a Boscaíno, guarda che tu sei una fallita, perché sono tre anni che stai cercando di spiegargli che cos'è la poesia. E sicuramente credo che tutti convergiamo in questa interpretazione, anche se non vi sto guardando in faccia, la poesia non è una cosa che può essere risolta attraverso criteri binari vero-falso, attraverso risposte multiple in cui devi azzeccare quella che si avvicina più a quello che... ha costruito quel test, ha atteso ad interpretare, la poesia è interpretabile, cioè sono tutte dimensioni che afferiscono alla cultura e alla soggettività dell'individuo. Invece la mania oggettivante della valutazione ha portato a questo e ad altri scempi, tra cui una serie di vari tentativi su cui non intervengo ulteriormente perché mi sto già dilungando, ma l'argomento, come potete immaginare, mi appassiona moltissimo, anche il fatto che la valutazione abbia tentato in tutti i modi di attanagliare gli insegnanti all'interno di un profilo che molto poco ha a che fare con il primo comma dell'articolo 33, l'arte e la scienza sono libere e libero non è gli insegnamenti. Io non so se voi ricordate quando nel 2007-2008 ci fu una terribile campagna di stampa contro gli insegnanti, rispetto ai quali il sostegno fu veramente poco, in cui da un articolo di pane bianco sul Corriere della Sera si davano buoni consigli a Padoa Schioppa, che allora era ministro dell'economia, per risparmiare sulla spartita stipendiale di un tale professore M, naturalmente meridionale, che però insegnava a Milano, il quale naturalmente faceva tutte le cose peggiori che tutti noi pensiamo siano le peggiori, che leggeva il giornale in classe con i piedi sulla cattedra, naturalmente si assentava per enormi lassi di tempo perché doveva andare a mangiare la pasta al forno in Sicilia da mamma e tutte cose di questo genere. Questo articolo iniziò una campagna letteralmente di linciaggio nei confronti dei docenti italiani. Guardate, io ho dismesso da lungo tempo quello che quando ero collaboratrice fissa dell'unità di Furio Colombo scrivevo continuamente, cioè l'idea di l'insegnante da mulino bianco. Gli insegnanti sono bravi insegnanti, sono eccezionali insegnanti, sono buoni insegnanti, sono anche cattivi insegnanti. Come in tutte le categorie professionali c'è di tutto. Però certo quell'articolo diede l'abbrivio ad una campagna che vide gli interventi di Panebianco, di Galli della Loggia, infierendo in maniera straordinaria sulla dimensione appunto della valutazione degli insegnanti, una valutazione punitiva, si iniziarono anche una serie di sperimentazioni che doveva aprire la strada ai decreti Brunetta che infatti arrivarono alla legge delega 15 e poi il decreto legislativo 150 del 2009. Tra l'altro inserendo all'interno delle varie responsabilità dei docenti anche l'affare di un ragazzo autistico della scuola dello Steiner di Torino che era stato picchiato in bagno dai suoi compagni di classe e quindi riscrivendo anche agli insegnanti la responsabilità del bullismo che stava nascendo da quel momento, riflettore mediatico e così via. Come vedete la contiguità degli anni è molto simile. Ecco che arriva Renzi. Renzi, vi ricorderete, sia nel discorso al Senato che alla Camera, sottolineò in maniera inequivocabile la centralità della scuola e che lui avrebbe messo le mani sulla scuola, disse proprio questa frase e sapete che da questa minaccia ben presto venne fuori la legge 107 del 2015, la sedicente buona scuola con tutte le relative lederiche. Vi dico solamente così, anpassando San Roberto Morea perché già ci conoscevamo benissimo e facemmo insieme questa battaglia che si tentò anche un referendum abrogativo di quattro punti fondamentali della buona scuola. Una era i poteri apicali del dirigente scolastico, l'altra era l'istituzione del comitato di valutazione interna alle scuole, l'altra era l'alternanza scuola-lavoro, insomma temi centrali della buona scuola e noi non riuscimmo ad arrivare alle 500.000 firme per 15.000 firme, ma vi assicuro ci scrisse i quesiti il professor Massimo Villone, vi assicuro che fu un'impresa straordinaria perché significò per tre mesi uscire da scuola e andare a fare banchetti ovunque perché non c'era la possibilità telematica che c'è solo da un anno di raccogliere le firme in quel modo e per pochissime firme relativamente appunto al numero enorme che ci vuole per fare il referendum fallimmo. Ecco quindi di fatto cosa si è trasformata? La scuola che aveva come finalità quella di far uscire da sé dei cittadini forniti di una strumentazione critico-analitica, cioè quelli che si dice una cittadinanza consapevole, riduce molto rapidamente in sudditi i cittadini, cioè da organo costituzionale fondato sulla libertà di insegnamento, sul pluralismo delle idee, sulla complessità dei saperi disinteressati orientata al rapporto significativo con la cultura, con le conoscenze e con le discipline, si passa ad una scuola gerarchizzata, determinata diciamo su una logica di risultato, risultati ripeto sempre non ce lo dimentichiamo mai, determinati da altri e da fattori che hanno molto a che fare diciamo con quella razio di egemonia dell'economia su tutto il resto, standardizzazione e proceduralizzazione di metodologie e pratiche funzionalizzata alla formazione della forza lavoro, cioè alla formazione di competenze. Il preside era diventato dirigente, i docenti che avevano uno status giuridico determinato anche sulla specificità professionale e progettuale sulla dimensione cooperativa si vedono rapidamente perché guardate il numero di carte che sono legate a questa proceduralizzazione e standardizzazione all'interno delle scuole è ormai una cosa infernale, cioè noi è vero, vi ricorderete la proposta di uno di quei signori di cui vi ho fatto vedere la foto che cavalcava l'idea che gli insegnanti lavorano in fondo solo la mattina, chiunque conosca me ma conosca gran parte dei bravissimi insegnanti che ci sono in circolazione sa benissimo che non è così, ma non devo nessun tipo di giustificazione, tenete presente però che insegnando la disciplina che io insegno, cioè lingua e letteratura italiana e latina, io ogni anno con delle classi che si aggirano tra le 27 e i 30 studenti e studentesse, lavoro qualcosa come, correggo qualcosa come 14 compiti per ciascuna delle 4 classi che ho, fate un rapido conto e capite che cosa significa questo insulto e poi appunto tra l'altro la preparazione delle lezioni ma anche i rapporti che noi dobbiamo gestire con tutto il corpo docente, non solo all'interno del collegio di docenti ma anche dei consigli di classe, ecco noi invece ridotti a una dimensione impiegatrizia e anche purtroppo a causa di una rivoluzione antropologica, cioè io dico sempre che la mia è sicuramente la professione più politica del mondo, lo rivendico, ispiro le mie lezioni di lingua e letteratura italiana ha questa dimensione politica che naturalmente non significa dire che cosa voto, significa assumere delle prospettive critiche, significa far emergere alcuni nuclei concettuali invece di altri. Ecco io ho l'impressione che la classe docente italiana progressivamente, ve lo dico da sessantenne, cioè io ormai sono nella scuola da tantissimo tempo, però ecco avendo io vissuto un mondo molto diverso, almeno nella mia giovinezza, da quelli che stanno entrando adesso, i quali probabilmente ascolterebbero questa lezione pensando io sono una marziana e che cosa sto mai dicendo. La valutazione era uno strumento per la comprensione e la valorizzazione delle caratteristiche individuali e stimolo all'apprendimento motivato e invece adesso i criteri, vi ripeto questa smania dell'oggettività, criteri standardizzati, punitivi, discrezionali, la logica del prodotto e il disconoscimento della divergenza. Studenti che avevano garantito il diritto allo studio, all'apprendimento, alla cittadinanza consapevole, che avevano a disposizione il tempo disteso, sentivo l'altro giorno Gaetano Azzariti parlare del tempo disteso, della riflessione che le pratiche costituzionali necessariamente richiedono, naturalmente stava criticando il DDL Calderoli, ecco anche la scuola richiede un tempo disteso, perché la metabolizzazione delle conoscenze deve necessariamente passare attraverso un tempo lungo, invece sono diventati consumatori acritici. Fioroni istituzionalizzò l'obbligo di istruzione al complimento del primo biennio, cioè dei primi due anni della superiore, l'alternanza scuola-lavoro, una scuola che sta diventando progressivamente scuola di classe, immobilizzazione definitiva di destini sociali socialmente determinati. Parole d'ordine, la velocità, la lingua, la lingua era uno strumento fondatore di significato e il significato determina la visione del mondo e invece la neolingua, di cui qui vi ho messo qualcosina, ma è molto poco, strumento di controllo ideologico alla complessificazione, perché il mondo è complesso e il cittadino deve saper far fronte a quella complessificazione, la semplificazione. Poi c'è stata l'autonomia differenziata, che è sempre una proiezione della riforma del titolo quinto. Guardate che c'entra moltissimo con la scuola e cercherò di farvi capire perché. Credo che tutti sappiate che cos'è l'autonomia differenziata, ovvero è la possibilità per le regioni a statuto ordinario, il Lazio per esempio, di accedere da una a 23 materie che sono distribuite tra il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 117, 23 materie tra cui c'è l'ambiente, c'è la giustizia di pace, c'è l'alimentazione, ci sono i beni culturali, c'è la ricerca scientifica, ci sono tutte le infrastrutture, c'è la sanità, c'è l'istruzione, sono 23, ve ne ho dette solo alcune, c'è il lavoro ed ecco che siamo adesso nei giorni attuali alla svolta finale rispetto a questa minaccia solo annunciata con la riforma del titolo quinto perché appunto dal 2018 le cose si stanno muovendo e adesso si stanno muovendo velocissimamente. Solo per farvi capire quali sarebbero i riflessi sulla scuola della Repubblica se il Lazio chiedesse le norme generali dell'istruzione che si trovano ripeto al comma 2 dell'articolo 117 che attualmente sono di competenza esclusiva dello Stato perché la scuola è la colonna, la spina dorsale della Repubblica e perché la scuola assolve a quello di finalità di rimozione degli strumenti di rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo. Ecco questo è quello che chiede il Veneto. Tenete presente che tutte e tre le regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia che hanno già stipulato preintese con il governo Gentiloni nel 2018 chiedono la scuola, il Veneto chiede tutte le competenze sulla scuola, la Lombardia un po' meno e l'Emilia Romagna un po' meno ma questo non cambia nulla, chiedono contratti, organico, ruoli, valutazione, mobilità e trasferimenti, offerta formativa, formazione dei docenti, attenzione formazione dei docenti, finalità e obiettivi, discipline e finanziamento delle scuole private, modalità di alternanza scuola-lavoro che adesso non si chiama più alternanza scuola-lavoro ma si chiama PCTO ma non cambia niente. Cioè è sempre fare entrare il mondo del lavoro come abbiamo visto all'interno della scuola, mandare gli sfigati a lavorare gratis da qualche parte, lo abbiamo visto purtroppo con i tre ragazzi Lorenzo Parrelli, Giuliano Lenosci e De Seta che sono morti quest'anno di alternanza scuola-lavoro, sono usciti a casa per andare a scuola e sono morti di lavoro. Inoltre conseguente che cosa da questa architettura che cosa può conseguire? Può conseguire l'aborgazione del valore legale del titolo di studio che getterà definitivamente ciascuna istituzione scolastica sul mercato perché? Perché se il Lazio avrà le sue norme generali dell'istruzione, la Toscana avrà le sue, la Calabria avrà le sue, la Lombardia avrà le sue, il Veneto avrà le sue, non ci sarà nulla di equipollente e comunque non basterebbero per determinare un diploma con valore legale di titolo di studio, due regioni anche identiche nelle loro richieste, quindi questo escluderà che perché è importante il valore legale del titolo di studio? Perché il valore legale del titolo di studio è prima di tutto la garanzia che la Repubblica detta le norme generali dell'istruzione, cioè che da Pantelleria, da Lampedusa a Sondrio, gli ordinamenti scolastici, il che cosa si deve insegnare, i contratti di lavoro, il modo di reclutare gli organici siano identici. Questo non sarà più perché come ripeto avremo 20 scuole più le due province autonome che fanno a parte, più sapete che ci sono le regioni a statuto speciale, quindi 20 sistemi di istruzione diversi, in cui naturalmente sarà molto buon gioco pensare che la persona abbiente molisana vada a studiare in Lombardia o vada a studiare in Veneto perché lì naturalmente il sistema, per i motivi che stanno nella razza dell'autonomia differenziata e su cui non mi soffermo perché non è questo il tema, avranno garanzie di un diploma che varrà di più sul mercato universitario di quanto valga in Molise, in Calabria e così via. Ecco, io credo che però noi dovremmo riflettere moltissimo sul tema della libertà di insegnamento, che è uno strumento dell'interesse generale come cercavo di dire prima. Che cosa diceva Calamandrei? Dice quella cosa meravigliosa, il congresso UAR l'11 febbraio del 1950, dice alla scuola come la vedo io è un organo costituzionale, lui dice è un organo come il governo, come il Parlamento, come la magistratura, ma ben più importante, dice, del governo, del Parlamento e della magistratura perché è un organo che eroga il sangue, cioè è come il sistema venoso del Paese che irrora tutti quegli altri organi. Ecco, è chiaro che se passasse l'autonomia differenziata questo principio verrebbe ovviamente, pensate semplicemente al reclutamento dei docenti, una cosa è che i docenti vengano reclutati attraverso un concorso pubblico nazionale e così via. Una cosa è che i docenti vengano reclutati direttamente dall'ufficio scolastico regionale della regione. Per dirla in breve, non credo che la regione Veneto si prenderebbe una boscaino di 25 anni che magari ha già mosso i primi pasti di contestazione e ha una storia turbolenta per i gusti politici e i gusti omologanti di quella regione. Quindi le interferenze del potere politico regionale rappresenteranno una pressione molto più diretta e immediata in convento ai fini di mediare pratiche didattiche, stili e metodologie di insegnamento, contenuti disciplinari, sanzioni della contrastività. Nel regime signorile che si dovrebbe istituzionare, lo stato di cortigianeria dei docenti rappresenterebbe l'unica opzione per docenti totalmente defrodati della loro funzione civile e privati di ogni orizzonte di libertà culturale. Quando uscì l'autonomia differenziata, Asorrosa ebbe a dire appunto a definire la scuola la spina dorsale del paese e quindi io credo che questo dovrebbe essere un incentivo ulteriore a combattere contro l'autonomia differenziata e questa è Zaya che dice ciascuno fa quello che deve fare a casa propria. Autonomia per tutti, a scuola ognuno studi la storia del suo territorio. In Veneto sette persone su dieci parlano e pensano in Veneto a prescindere dalle classi sociali e quindi ci informa Calderoli che già esistono all'interno dell'Ufficio Scolastico Regionale dei Veneto la progettazione di corsi di formazione per docenti che insegneranno storia veneta come materia disciplinare. Quindi che cosa vuol dire? Che l'Ufficio Scolastico Regionale dirà al neo assunto che cosa, come, perché e quando deve insegnare. Fine del primo comma dell'articolo 33. Va bene, storia e cultura veneto, didattica della storia della cultura del Veneto e dell'immigrazione veneta, insegnanti destinati a competenze legate all'ambito del patrimonio storico-culturale locale naturalmente e sappiamo che già ad Arzignano da tre anni è partito un corso di lengua veneta che verrà, se dovesse passare l'autonomia differenziata, cioè DDL Calderoli e tutta la questione dei LEP, anzi questione dei LEP e DDL Calderoli, ecco che noi avremmo quantomeno l'affiancamento della lingua veneta o della lingua Emiliano Romagnola, mettiamo, o Emiliano e Romagnola, insieme alla lingua 1, cioè all'italiano. C'è un caso poi estremamente scottante, cioè il caso del Friuli Venezia Giulia. Allora, il Friuli Venezia Giulia, con la mozione, diciamo, sta per licenziare una legge che si chiama norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di istruzione non universitaria. C'è una prima mozione, la 288, che impegna la giunta regionale a promuovere con il governo ogni azione possibile al fine di consentire che l'iter di regionalizzazione della scuola del Friuli Venezia Giulia venga in tempi rapidi in quanto risulta di rilevo strategico per lo sviluppo della nostra regione, che viene votato viene votato l'11 novembre del 2021 con un solo contrario, Furio Onsel, due assenuti e 32 a favori e già dovete sapere che la precedente giunta Serracchiani, questa è Federica, ma la Serracchiani aveva portato avanti il progetto. Che cosa prevede? Prevede il trasferimento alla regione dell'ufficio scolastico regionale. Attualmente, attenzione, gli uffici scolastici regionali sono uffici periferici del MIUR o del Ministero dell'Istruzione del Merito, cioè sono uffici periferici del Ministero Centrale. Trasferimento di funzioni, beni mobile e immobile, risorse finanziarie alle regioni, avranno la competenza di scegliere e fare i contratti dei dirigenti e dei DSGA, dei dirigenti che già lo fanno, che quindi diventano regionalizzati, cioè diventano organico regionale, attuano la parità tra le scuole statali e non statali, determinano le norme per gli studenti non di cittadinanza italiana, siamo in Friuli, valorizzazione della multiculturalità, però per lingua floriana, tedesco, sloveno, eccetera, eccetera. Materie integrative, altre competenze dell'ufficio scolastico sarebbero, edilizia scolastica o aggregazione, fusione e soppressione di scuole, definizione di standard organizzativi e gestionali dell'istruzione tecnica superiore per lo sviluppo delle relazioni tra sistema produttivo, autonomia scolastica, eccetera. Come vedete, diciamo, la neolingua imperversa. Ultima cosa su questo che vorrei dire è molto importante, si configura un attacco al contratto collettivo nazionale con l'autonomia regionale differenziata, perché con l'autonomia regionale ogni regione integrerà all'organico, cioè ci sarà un organico statale e un organico regionale. Quindi il contratto collettivo nazionale non sarà più esclusivo, alimentando così, e quindi la partecipazione che già, diciamo, è abbastanza latente e il conflitto è già abbastanza latente, lo stavamo dicendo prima, divisioni tra lavoratori e lavoratrici, depotenziando la capacità conflittuale e con cresa la democrazia e la garanzia di uguali diritti. Qualche dato, questi sono i dati istat di quest'anno, qui stiamo parlando di cittadini e cittadini che non hanno nessun titolo di studio? Ebbene sì, esistono ancora, 13,95% al nord, 14 al centro, 19,39 al sud. Questi sono i diplomati, il 35% nord e centro, sud 30%. Abbandono tra i 18 e 24 anni, abbiamo la media italiana che è 13, il nord 11, 11 e 5 il 13, 16,3 il sud. E c'è bisogno di fare l'autonomia differenziata per rendere queste divaricazioni, cioè stiamo parlando di tanti punti percentuali ancora più drammatiche? La domanda naturalmente per quanto mi riguarda è retorica. Combinando il provvedimento dell'autonomia differenziata, concludo su questo tema davvero scusatemi, con la revisione dell'articolo 81 della Costituzione, cioè con il cosiddetto equilibrio di bilancio, cioè il pareggio di bilancio che ha già taglieggiato in maniera sostanziale le finanze comunali e tutti i servizi pubblici, non sarà più una Repubblica fondata sul lavoro, perché è sottesa all'autonomia differenziata una subdola riforma istituzionale, la Repubblica non richiederà più i doveri indelogabili solitari da politica economica e sociale, l'articolo 2 della Costituzione, perché? Perché le regioni chiedono di trattenere le proprie risorse regionali, non sarà più compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Sostanziale cancellazione di diritti inviolabili universali, cessazione di potestà legislativa su principi e diritti fondamentali. Fine del patto repubblicano. Andiamo agli ultimi due ministri. Questa è la scuola del ministro Bianchi, vi ricordate il sedicente tecnico del presidente Draghi? In realtà questo signore docente universitario era già stato assessore all'istruzione della Regione Emilia Romagna, che come sapete chiede ben 16 materie in tema di autonomia differenziata. Questi sono stati i due fiori all'occhiello, cioè i patti di comunità. Questo è il suo libro con cui ha fatto 3.000 presentazioni, in cui sostanzialmente si determinava una omologazione tra pubblico e privato. I patti di comunità coinvolgevano enti territoriali, terzo settore, imprese, mondo dell'associazionismo e delle professioni, il tutto sostenuto dalle risorse e nuovi fondi comunitari di cui potrà godere l'Italia nei prossimi anni. Siamo nel PNRR già. Predisporre che cosa si doveva fare per determinare questi fatti comunità tra questi soggetti? Vi voglio sottolineare che non c'è scritto insegnanti, non c'è scritto dirigenti scolastici, niente. Predisporre le attività congiunte come parte organica di ciascuna scuola della propria offerta didattica, a cui la scuola dovrà dare senso ed unitarietà ad un progetto organizzativo, pedagogico e didattico ancorato al territorio. Cioè i signori qui sopra, tanti territoriali, terzo settore, eccetera, eccetera, affiancandosi ed entrando nel tempo scuola, era previsto che predisponessero le attività relative al patto di comunità finanziato dai fondi comunitari e che alla scuola non restasse nessun altro compito che la responsabilità di un'adeguata rilevazione delle esperienze e dei saperi acquisiti. Tempo scuola, analogo, stai facendo filosofia o stai facendo il progetto del mondo dell'associazionismo o della regione o del terzo settore, è la stessa cosa. Infine ci sono queste tre chicche importanti, cioè nel corso e sempre legato al PNRR c'è stata la riforma macabra, direi, dell'istruzione professionale, in cui si è portato avanti il percorso, il nuovo percorso di formazione tecnica superiore. I istituti tecnici superiori vengono attraverso la riforma, quindi questa è già norma, quindi è già passata questa cosa, vengono sostanzialmente legati alle imprese e al tessuto industriale che diventano di fatto il vero soggetto di riferimento del sistema. A questa riforma degli istituti tecnici superiori è stata destinata un miliardo e mezzo del PNRR e che cosa succede in questo che è un segmento dell'architettura del sistema di istruzione italiano che il corpo docente vede affiancati i docenti di quella scuola secondaria che è ente di riferimento dell'ITS coinvolto e docenti che provengono anche per il 70% dal mondo del lavoro. Cioè voi capite che noi abbiamo fatto un concorso, le abilitazioni, molti di noi il dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e di specializzazione in che cosa? In didattica della letteratura piuttosto che in filosofia morale o in calcolo computazionale e che invece questo è quello che è stato il concetto base della riforma, nuovo attacco del privato al sistema formativo nazionale, scuola industria che rappresenta un passaggio ulteriore per la subordinazione dell'istruzione e le esigenze del mercato del lavoro con la conseguente differenziazione territoriale che ne deriverà. Non parlerò estesamente del PNR, voglio confortare tutti perché siamo quasi alla fine delle slide, ma vorrei farvi riflettere un momento su questi dati. Allora a fronte dei dati Istat che abbiamo visto precedentemente, non ha prevalso naturalmente anche nel riparto dei fondi del PNRR sulla scuola, la questione del recupero, che ne so, degli abbandoni scolastici, del recupero di un'edilizia scolastica che cade a pezzi, del fatto di reintegrare Lingua 1 al biennio perché dicono tutti che non sanno né leggere né scrivere né far di conto, di aumentare magari il tempo scuola implementando i personali eccetera eccetera o di mettere più insegnanti di sostegno, ne potrei trovare mille di cose che potevano essere fatti. Qui invece abbiamo una porzione molto importante, 2,1 miliardi per cento classi innovative e laboratorie per le professioni digitali del futuro. Bianchi, in atto il più grande intervento trasformativo del sistema di istruzione, con PNR e risorse europee, 4,9 miliardi sulla digitalizzazione. Avete visto che il PNRR ha anche altri cespiti, per esempio la riforma dell'istruzione tecnico-professionale, ma qui vedete i soldi che vengono profusi per questo tipo di operazione. Vi dico, per farvi un esempio e farvi comprendere quanto tutto questo sia disorientante, che in una scuola come la mia, che è un liceo classico di un quartiere bene di Roma, che è l'Eur, dove vengono figli di professionisti, gente acculturata, affabetizzata, molto danarosa, sono arrivati 79 mila euro per dotare la cattedra di un dispositivo che consentirà all'insegnante di non avvolgere le spalle ai ragazzi mentre spiega sull'interfaccia che i ragazzi avranno davanti a loro. Ecco, allora io mi chiedo se questo tipo di investimento sia quello che serve. Cioè io non voglio riportare alla luce i crolli continui che ci sono nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole elementari, anche nelle scuole superiori. Non voglio appunto parlare del disapprendimento progressivo delle generazioni perché guardate che di anno in anno noi ci rendiamo conto che il sistema funziona sempre di meno. E non è solamente una questione di progressivo disimpegno delle giovani generazioni e di progressivo disinteresse per qualunque tipo di approccio critico-analitico. Loro guardano solamente ad una cosa, hanno imparato molto bene la questione della competitività. Loro vogliono arrivare a cento e lode, questa è la cosa fondamentale. Loro vogliono poter fare i test d'ingresso alle facoltà universitarie durante il quarto anno in modo che poi il quinto sarà un gioco da ragazzi andare, soprattutto se sono stati presi alla LUISO, perché non hanno nemmeno più il problema del voto. Allora, o chi c'è tra la dimensione della competitività, che come sapete sta facendo dei danni psichiatrici, non solo agli studenti e alle studentesse di scuola, ma anche a quelli universitari, e la questione di una dimensione velocizzante, l'iter, del percorso formativo della persona che, ripeto, non può nemmeno più contare su dei tempi naturali. Sapete che c'è un processo in atto che prevede la decurtazione di un anno di scuola superiore. Cioè, io credo che la dotazione, diciamo, di conoscenza, che parlo per la mia scuola, un liceo classico può fornire a chiunque voglia intraprendere qualunque tipo di specializzazione, di professione, anche la più scientifica. Mio figlio ha fatto il liceo classico, sta facendo il dottorato di fisica teorica, quindi questa non è una prova, ma ce ne avrei centomila. Ha bisogno di sviluppare, appunto, come dicevo prima, il tempo disteso dell'apprendimento, perché lo studio richiede metabolizzazione. Il problema è che lo studio non è più la conoscenza, soppiantata dalla competenza, e qui quindi ritornerei sulla questione dei test invalsi, non è più l'elemento che interessa. Che cosa interessa? Orientare al lavoro i bambini un tutor fin dalle scuole elementari. Il fatto quotidiano 1-12-21. E la questione è andata avanti, perché, come vedremo, qui Valditara è un po' soppiantato dai titoli di giornale, perché finora, diciamo, si è segnalato per una serie di sparate che sono state veramente clamorose, però poi sulla parte destra vedremo anche che cosa è in mente di fare Valditara. Valditara manda alle scuole una lettera contro il comunismo e dimentica fascismo e antisemitismo. Avrete lette tutte queste cose sul giornale. Valditara contro la preside di Firenze, che ha scritto una lettera sul fascismo, atto improprio, ridicolo, parlare di rischio fascista, dopo un picchiaggio. Bufera sulla frase di Valditaria, umiliazione serve per far crescere gli studenti. Poi il dietrofonte, volevo dire, umiltà. Certo, da un ordinario di diritto, non è un lapsus, umiliazione, umiltà. E poi il lapsus si corregge quasi immediatamente. Allora, che cosa dice Valditara? Scusatemi un attimo. Che ho tolto la condivisione? Sì. Aspetta che la rimetto. Oddio, non la vedo più la barra per la condivisione. Come mai? Ah, eccola qua. Io ti vedo. Sì, sì. Ecco, no, vi volevo far vedere. Che cosa dice? Dice che la scuola pubblica ha bisogno di nuove forme di finanziamento anche per coprire gli stipendi dei professori che potrebbero subire una differenziazione regionale. regionale, vi ricordate? Scandalo, vuole ritornare alle gabbie salariali. Per trovarle, si potrebbe raperire ai finanziamenti privati. Quindi, diciamo, un delirio da tutti i punti di vista. A, ritorno alle gabbie salariali. B, alcun tipo di riflessione sul... Guardate, io non mi vergogno di dire che a 60 anni guadagno 1.970 euro al mese, facendo, diciamo, un lavoro a tempo pieno, credetemi. Tra l'altro, noi abbiamo anche il tema, il problema dell'esame di Stato, che quindi ci porta fino a metà di luglio. E invece, qual è l'escamotage? La differenziazione regionale, naturalmente, con un vantaggio per i docenti del Sud, e poi l'apertura ai finanziamenti privati. Cioè, voi capite che in questo modo il sistema continuerà a conflagrare, ed è anche, come dire, un'apertura di porta chiara per l'autonomia differenziata. Progetto organico di trasformazione della scuola, continuo a dirlo, lo dice sempre nel febbraio di quest'anno, una sintesi tra aziendalizzazione e conservazione disciplinare. parla di professionisti aziendali in classe, quindi in continuità con il progetto di Bianchi, sponsorizzazioni e sinergie con il sistema produttivo. E sull'alternanza scuola-lavoro non si cambia. Il 22 marzo del 23, in un question time, dice, va a precisare che la materia istruzione rientra a pieno titolo, tra quelle per le quali la nostra Costituzione prevede ulteriori forme e condizioni particolari dell'autonomia, qui cita il comma 3 del 116, ancora una volta si rimanda all'articolo 116, il terzo comma, che venne approvato nel 2001 da una maggioranza di centrosinistra. Quindi a Val di Tara sta bene l'autonomia differenziata, sta bene la materia istruzione e università, perché ricordatevi che c'è anche la ricerca scientifica. 22 maggio 23, pochi giorni fa, mettere al centro la cultura del lavoro già dalle scuole elementari. E allora, per concludere questa carrellata, due ultime slide. La prima, cosa sono le norme generali dell'istruzione che sono messe a disposizione delle regioni a statuto ordinario dal comma 3 dell'articolo 116? Ce lo spiega benissimo questa sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza 200 del 2009. E non mi sto dilungando, guardate, sul tema dell'autonomia differenziata, che pure, come immaginate, mi sta enormemente a cuore, perché queste norme qui, ribadite dalla Corte Costituzionale, sono state violate in tutto quel percorso, diciamo, una cavalcata molto rapida che ho dovuto fare e che si accingono ad essere ulteriormente violate. Dice la Corte, si pongono gli articoli 33 e 34, che non vi ho letto all'inizio, della Costituzione, le caratteristiche basilari del sistema scolastico relative a, all'istituzione di scuole per tutti gli ordini del grado, articolo 33,2 della Costituzione, al diritto di enti e privati di istituire istituzioni di educazione senza oneri per lo Stato, articolo 33,3, alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni, articolo 33,4 della Costituzione, alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi, articolo 33,5 della Costituzione, all'apertura della scuola a tutti, primo comma del 34, all'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore, secondo comma del 34, al diritto degli alunni capaci e meritevoli anche se privi di razzi di raggiungere i gradi più alti degli studi, articolo 34,3 comma, alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio assegni alle famiglie, alle provvidenze e di altre provvidenze che possono essere destinati. Articolo 34,4 comma, le prescrizioni di questi articoli rappresentano la struttura portante, ha detto la Corte, del sistema nazionale di istruzione e richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante un'offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio di istruzione, interesse primario di rilievo costituzionale, nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, cioè la legge 62 del 2000. Prima di darvi l'ultima chicca, vi vorrei ricordare che tra le cose che chiede il Veneto e chiedono anche le altre regioni c'è anche l'accesso alla parità scolastica. Allora qui, oltre a un problema, diciamo, di democrazia, oltre a un problema di vulnus al terzo comma dell'articolo 33, oltre e oltre, c'è anche un problema di laicità che investirà enormemente i sistemi scolastici regionalizzati. Pensate al Veneto in cui le scuole dell'infanzia parificate al momento, gestite dalle suore, sono il 60% di quella parte del sistema scolastico di istruzione. Pensate che cosa accadrà quando sarà la regione stessa. Pensate a cosa accadrà quando la regione istituzionalizzerà dei corsi di formazione per insegnanti. Cioè, il pensiero unico dominerà in maniera sia nelle metodologie che nei contenuti, che nella scansione, che nella dimensione organizzativa. Quindi, io credo che ci sia davvero un enorme allarme democratico. E quindi, per rispondere alla domanda che Piero mi aveva gentilmente indicato come traccia per questo mio intervento, io rispondo che, purtroppo, io credo che questo processo, se non capiamo davvero, ma col cuore, oltre che con la testa, col cuore, diciamo, lo dico un po' retoricamente, anche per i sacrifici che la nostra Costituzione ha implicato, ha impegnato, ma che ha implicato, ha impegnato le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici, le lotte delle maestre per emancipare, ecco, c'è stato l'anniversario di Don Milani, che non è precisamente, diciamo, il mio modello per tanti elementi, però, insomma, la cosa, la cosa peggiore è far parti uguali tra diversi. E qui, non stiamo nemmeno facendo più parti uguali tra diversi. Qui facciamo parti disuguali tra uguali. È esattamente il contrario. cioè lo studente della Lombardia avrà molte, ma molte, più chance, più possibilità, più offerta formativa, più trasporti, perché anche i trasporti sono implicati, di quello della Calabria, aumentando a dismisura il gap già esistente, il vulnus terribile, ai due commi dell'articolo 3 della nostra Costituzione, cioè il principio di uguaglianza. E concludo con quest'uomo amatissimo che è Concetto Marchesi, che era insegnante di latino, docente di latino universitario, prese parte alla Resistenza, venne eletto in Assemblea Costituente in rappresentanza del Partito Comunista Italiano, in quella sede ebbe un ruolo attivissimo nella stesura di quegli articoli della Costituzione Repubblicana che sono proprio relativi al contesto di cui abbiamo parlato oggi. Anche nel suo italiano, il suo linguaggio. Come? Anche per il linguaggio della Costituzione. Esatto, anche per il linguaggio della Costituzione, sì, perché la Costituzione fu rivista da Marchesi, Pancrazzi e Baldini. Dopo che questi avevano fatto questa fatica incredibile, questa architettura meravigliosa, questo compromesso, come lo chiama Azzariti in senso positivo, loro l'hanno rivista. Questo anche per dire, e lo dico an passant, ricordatevi come era scritta la Boschirenzi o come scritto appunto, il famoso comma 3 dell'articolo 116 dai nostri novelli costituenti attuali. Allora, la istruzione, sia primaria, sia media, sia universitaria, non è problema di regioni o di comuni o di enti privati, è problema nazionale. La deficienza di una parte si fa sentire sull'altra. come l'analfabetismo del mezzogiorno è gravato a lungo e grava tutt'ora sulle altre zone d'Italia. Ciò che è malattia di una parte è anche malattia del tutto. Se si vuole che l'Italia resti o divenga veramente un tutto, non basta che alcune regioni abbiano possibilità di rendere fiorenti i loro istituti educativi. Se altrove l'intelligenza si fa sorda e pigra e vuota e la mente resta ignara e incapace di riflessione. L'elettore più ignorante e più rozzo vale quanto il più elevato e la sorte del paese è affidata alla stolidezza quanto alla consapevole intelligenza. Non temete l'accentramento onorevoli colleghi. La scuola quando è buona e funziona bene è naturalmente decentrata e il decentramento non dipende né dal comune né dalla regione né dallo stato. Dipende dal maestro. Ricordatevi l'etimo magis terra cioè quello che è più in un gruppo. Chi decentra veramente la scuola e ne fa un organismo vivo e perciò distinto dagli altri organismi con simili è il maestro cioè l'individuo cioè la persona umana. E con questo io ho finito e vi ringrazio tanto per la detenzione scusandomi della lunghezza. grazie grazie molto per questa competente e appassionata lezione che ci ha squadernato davvero in maniera esemplare e completa il quadro disastroso delle trasformazioni che hanno investito la scuola pubblica negli ultimi decenni a chi ha voglia di intervenire di fare delle domande di interloquire in qualche modo dicendo che noi sia Marina che io alle 7 abbiamo un altro impegno da remoto dobbiamo stare dietro il computer per un altro per un altro impegno prego chi vuole alzi la mano o intervenga direttamente grazie grazie volevo intanto complimentarmi per la chiara lucidissima appassionata esposizione che rende anche chiaro una cosa e cioè questo progetto di trasformazione della scuola dal luogo di formazione dei cittadini a luogo in cui si devono invece formare dei produttori consumatori possibilmente obbedienti a un progetto che viene da lontano l'autonomia differenziata è solo forse l'atto completo che completa questo lungo progetto e allora mi viene da chiedere è chiaro che dobbiamo porci con tutti i mezzi al progetto di autonomia differenziata e forse la scuola è una delle ragioni principali per cui noi dobbiamo batterci per opporci all'autonomia differenziata ma mi domando anche dove possiamo trovare l'energia ossia la scuola dovrebbe trovare sa stessa magari negli studenti le forze le capacità per opporsi a questo progetto e a capovolgelo possono i giovani di oggi impegnarsi per chiedere nuovamente che la scuola sia al loro servizio e non si trasformi viceversa in un posto che intenda trasformare l'oro in umili obbedienti servitori del mondo produttivo capitalistico vedi Piro un po' quello che dicevo prima cioè col passare del tempo i docenti sono sempre più lontani dalla consapevolezza che si tratti di un processo perché non hanno visto prima quello che c'era perché non hanno vissuto in un mondo dove c'era c'era la politica in un mondo dove c'era un dibattito dove c'era un'apertura democratica il mondo dove c'era il conflitto adesso diciamo c'è veramente scomodo Pasolini ma davvero l'omologazione cioè l'omologazione a delle procedure sapete qual è il più grande incubo dell'insegnante italiano oggi stare a posto con le carte perché se l'utente utor fa ricorso tu devi stare a posto con le carte e i ricorsi piovono tanto sulla scuola quanto sulla sanità davanti alle cose più immaginabili che voi possiate pensare come dire come si fa il cliente ha sempre ragione in un sistema aziendale il cliente che ha acquisito il prodotto dell'azienda ha ragione quindi deve essere assecondato come deve essere assecondato attraverso questa cura primaria che non è spiego bene insegno bene ho una relazione significativa con i miei studenti è sempre di più generazione dopo generazione quella forma impiegatizia di cui ti dicevo ora naturalmente io non voglio né generalizzare né dire che tutti i giovani sono inconsapevoli inconsapevoli però sapete una cosa è aver scelto di fare questo lavoro perché hai letto la Costituzione e ti sei sentito di diciamo chiamato su una cosa che a te interessa e sulla quale puoi dare quel tuo contributo una cosa è scegliere l'insegnamento come un mestiere qualunque e quando tu lo scegli come un mestiere qualunque non hai nemmeno quell'incentivo di provare a trovare una prospettiva altra una prospettiva diversa e quindi molto spesso anche quel chiudo quel disinteresse dei giovani è formato da una classe docente che li omologa perché a sua volta è stata omologata allora secondo me quello che si dovrebbe fare è parlare molto più di scuola in termini critici critici proprio etimologicamente critici cioè svelare quali sono le conseguenze di questo progetto di compressione della democrazia che passa anche attraverso la scuola sperando che i soggetti più sensibili quelli che hanno anche che non hanno visto un altro sistema che non hanno vissuto in un altro mondo e che non ne hanno avuto esperienza si appassionino a questa perché voglio dire nella politica parlamentare non possiamo sperare perché come ho omesso di dirvi che tutti quei provvedimenti sono come si dice orrendamente bipartisan centrodestra e centrosinistra cioè l'autonomia scolastica l'ha fatta Luigi Berlinguerra la legge Gelmini l'ha fatta questa signora che adesso sta con Calenda ma che era allora di Forza Italia Renzi era del PD cioè le catastrofiche cose la legge di parità l'ha fatta il PD la riforma del titolo quinto l'ha fatta il PD quindi io adesso non è che stiamo qui a parlare di politica però certo non ci possiamo aspettare a meno che non ci sia una rivoluzione che molti di noi auspicano ma temo che non ce ne siano le condizioni non ci possiamo aspettare che questa rotta venga invertita perché questa rotta è la rotta globalizzata cioè è come quando sulla riforma Boschi-Renzi sono intervenute Standard e Ports e tutte le agenzie di rating per dire ma la Costituzione le Costituzioni del Mediterraneo sono troppo sbilanciate verso il socialismo e voi che centrate centravano centravano e come e hanno fatto di tutto per far fallire cioè per far vincere quel referendum poi vincerlo dal loro punto di vista ed è così adesso sulla scuola chi interviene la fondazione Agnelli la compagnia delle opere l'IBM non vi parlo poi del mercimonio di acquisti giochi con questa questione dell'investimento sulla tecnologia è qualcosa veramente che crida vendetta davanti all'insuccesso formativo quindi ti ripeto secondo me purtroppo io non voglio dare segnali di sfiducia però sinceramente guardate mio nonno era preside di un liceo classico io penso che se mio nonno vivesse in questo momento e lo buttassero in mezzo alla mia scuola che è anche una buona scuola una scuola di bravi docenti capirebbe di essere a scuola certamente perché vede gli studenti ma non per quello che si fa perché dall'alternanza scuola-lavoro alla progettualità che che cos'è i progetti cosa sono stati se non la cartina di Tornasole per dire tu cliente cliente sottolineo vieni da me perché io ti offro trilli lazzi e motteggi tutto il giorno puoi fare questo puoi fare quest'altro puoi fare quest'altro e impoverendo sempre più la didattica e quindi gli apprendimenti degli studenti e impoverendo al contempo l'accesso al diritto allo studio degli studenti meno facoltosi perché tutte queste moine e tutti questi movimenti si fanno nelle scuole di classe come la mia come la mia e non si fanno sicuramente nelle scuole di Borgata dove ci sono ben altri problemi se voi guardate i dati istat l'ottantatré per cento della popolazione migrante italiana sta nell'istruzione professionale e il novantuno per cento dei disabili che seguono che fanno il percorso di scuola superiore stanno nell'istruzione professionale allora diciamo il buon governo cosa direbbe beh tappeti rossi alla scuola professionale diamo alla scuola professionale tutti i fondi per essere che cosa lo strumento di emancipazione di queste persone disabili o migranti cioè diamogli gli strumenti per entrare nella società consapevolmente a loro nelle possibilità che possano esprimere e invece no che cosa non è questo l'investimento che stanno facendo ovvero lo fanno ma da un altro punto di vista facciamo entrare più privati possibili all'interno dell'istruzione professionale così andiamo ad aumentare la filiera che dialoga con le aziende quindi la scuola ripeto io per me Marina già solo per informarci siccome ci sono altre due tre persone scusami non avevo perché non stavo c'era lo schermo nero scusami scusate la logorrea no ti ringraziamo per la capacità espressiva e vorrei dare la parola Andrea Battinelli e poi Marina De Felici buonasera a tutti spero di non fare la figura del bastian contrario completo cioè mi è parso che mi pare che tutta la nostra storia la storia dell'opposizione a queste trasformazioni che sono la cui logica è stata brillantemente diciamo sintetizzata da Marina che hanno visto coinvolte naturalmente un arco di forze politiche gigantesco la nostra posizione sia sempre stata una posizione di pura resistenza e compreso i ricordi delle vecchie generazioni come la mia cioè ai nostri tempi era tutta un'altra storia e così via difendiamo la Costituzione conserviamo 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 ma qualche qualche cosa di nuovo che sia stato proposto rovesciando le proposte degli altri come logica io non l'ho non l'ho visto tanto faccio alcuni esempi molto sinteticamente quindi il il discorso della scuola lavoro vorrei ricordare che almeno quelli un po' più avanzati d'età come me quando durante la rivoluzione culturale il partito comunista cinese formulò il discorso del 4 ore 4 a noi ci sembrò un bel discorso di classe che negava la specializzazione così dire appunto puramente intellettuale nella formazione cioè io credo che conoscere le realtà aziendali sia un un modo per farsi un'idea purché sia critica dell'organizzazione del lavoro capitalistico molto molto importante naturalmente se fai la scuola di lavoro lasci i giovani nelle mani degli aziendalisti e non fai attività critica per cui per ogni cosa che non funziona compresa la sicurezza fai casino eccetera è evidente che poi passa il discorso come è passato e anche anche la storia di dire che sono che sono andati lì e ci sono morti ha avuto un sapore non voglio dire da parte nostra ma da parte di tanti ha avuto un sapore che andava contestato fin dall'inizio cioè sono giovani sono studenti non devono morire gli altri che sono magari giovani come loro e che sono operai possono continuare si può andare avanti così c'è stata una saldatura di questi discorsi è passato un po' ancora la valutazione posto che hai perfettamente ragione nel dire che ci sono un sacco di colleghi che sono bravi ma anche un sacco di colleghi che non gliene frega nulla per cui hanno scelto come hai detto questo lavoro come un lavoro qualsiasi e che non vivono assolutamente la loro attività come qualcosa che abbia a fare con gli articoli della Costituzione che hai citato vogliamo pensare a delle forme alternative di valutazione la voglio chiamare scherzosamente stalinista che noi possiamo pensare che abbiano un senso e poi vorrei anche dire che certo che con questo concludo il discorso dei test a risposta multipla io ho insegnato matematica non ne ho mai fatti perché va tanto male non vorrei che passasse capito magari tu non lo intendevi dire va tanto male l'idea che si possa dare fare una attività formativa con i test diciamo su su montale la stessa cosa vale per i problemi di matematica perché non si tratta di mettere alla prova la capacità di applicare senza pensare delle ricette precostituite di soluzione si tratta di trovarsi di fronte a un problema leggermente nuovo al quale adattare la propria consapevolezza linguistica e quindi naturalmente questo si vede attraverso uno svolgimento pieno non si vede mai così eccetera e l'ultimo particolare riguarda una cosa che insomma ti vorrei contribuire perché secondo me mi è sembrato di sentirti di sentirti assimilare Kenneth Arrow alla diciamo alla scuola di Chicago come terzo esponente io questa cosa non la direi perché diciamo non sto dicendo che Arrow era un pensatore marxista ma a parte il fatto che a Chicago ci ha passato al massimo due anni quando era molto giovane per il resto soprattutto è noto per essere stato a Stanford ma diciamo ha dato dei contributi di vario genere sempre nell'ambito di una teoria fortemente analitica neoclassica eccetera però che ha messo in rilievo come le asimmetrie informative per esempio configurano dei fallimenti di mercato e anche la citazione proposta in effetti si differenzia abbastanza da quelle altre due per cui va bene quella citazione che fa vedere come diciamo all'impresa può stressare qualche cosa di completamente diverso dalla formazione ma ma un segnale quasi di disponibilità di adattabilità e diciamo già questo lo mette un po' su un altro piano insomma io lo definirei uno studioso così ma non nulla a che fare con Chicago grazie accetto il consiglio e ti dico solo rapidissimamente che hai ragione è così lo penso anch'io è lungi da me pensare alla matematica come un fatto diciamo automatico cioè quel tipo di atteggiamento in sostanza è quello che ha fatto dire no io non sono portato per la matematica per esempio a me no che però ti voglio anche dire che nel corso di questi decenni ci sono state delle proposte alternative noi per esempio io ero portavoce della LIP scuola che era una legge di iniziativa popolare che è stata scritta da centinaia di persone insegnanti studenti operatori della scuola genitori eccetera eccetera che ha passato una serie di vicissitudine in cui si tendeva a perché non è nemmeno la scuola dove hai insegnato tu e nemmeno la scuola dove ho insegnato io all'inizio non è nulla a determinare proprio le condizioni della scuola della costituzione cioè a metterla in forma di legge esplicita di provvedimenti esplici di articoli di legge e che all'ultimo articolo visto che venne riproposta con la buona scuola di Renzi addirittura venne collegata in commissione nella discussione in Parlamento proponeva non già la collattività di alternanza scuola lavoro come la stava proponendo Renzi in quel momento ma un'attività di comprensione e conoscenza del contratto cioè una riflessione sul tema della dignità del lavoro e pensate che questi ragazzini non sanno nemmeno che esista un contratto del lavoro quindi un'attività specifica sviluppata dalla scuola nella scuola non necessariamente con insegnanti curricolari a cui destinare quindi un insegnante che si occupasse di alfabetizzazione contrattuale non so come dire e poi di come dici tu andare a vedere in dimensione analitica e anche critica che cosa sia ma quello che accade adesso è una cosa completamente diversa è totalmente inconsapevole per ragazze e ragazze posso inserirmi in questa cosa se è il mio turno Marina sì senz'altro però ti prego di essere breve perché eh sì lo so io pure ma guarda voglio portare solo due esperienze molto sinteticamente una cosa interessante che diceva Battinelli che ho piacere di conoscere con cui ogni tanto abbiamo scambiato delle mail ma ci siamo visti adesso online vai Marina allora brevemente due esperienze una come genitrice nel senso che ho bazzicato la scuola francese perché i miei figli hanno fatto le scuole in Francia per diversi anni hanno fatto dalle elementari al liceo e mi sono resa conto che anche lì esisteva una forma di diciamo di apertura verso le esperienze anche extra scolastiche nel senso che si portavano i ragazzi una settimana durante tutto l'anno a conoscere delle forme di organizzazione del lavoro ma addirittura dalle elementari quindi non è che il problema sono le esperienze formative al di fuori della scuola e che possano far conoscere il mondo del lavoro se veramente poi c'è una conoscenza diciamo da osservatori e da osservatori che hanno degli strumenti di comprensione poi di quello che vanno a vedere ma non che vanno a fare delle mansioni come accade da noi cioè noi facciamo le cose trent'anni dopo e le facciamo in maniera sbagliata come con gli inceneritori gli inceneritori li facciamo trent'anni dopo quando gli altri li stanno smobilitando noi vogliamo fare i mega inceneritori che non hanno più alcun senso e così è stato con l'alternanza scuola-lavoro quando negli altri sistemi educativi si cercava di dare diciamo una conoscenza abbastanza semplice ma comunque di far fare un'esperienza esterna formativa dando degli strumenti appunto conoscendo le caratteristiche anche contrattuali o la tipologia del lavoro e stanno passando al massimo una settimana in questi ambienti non sottraendo mesi di 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 attività didattica tradizionale agli studenti per gli per mandarli a svolgere mansioni che invece competono a chi lavora e e e ed è diciamo salariato per questo invece li abbiamo fatti fare a studenti gratuitamente quindi questo per riprendere un attimo il discorso scuola-lavoro e mi viene in mente mi vengono in mente le parole di di Alessandro Barbero che ho visto recentemente in uno spot diciamo una una in sua una sua diciamo molto sintetica descrizione di questa scuola-lavoro di questa alternanza scuola-lavoro lui diceva secondo me molto acutamente giustamente finché a scuola ci andavano solo i ricchi si era ben consapevoli dell'importanza di questo spazio riservato esclusivamente in una certa fascia di età e quindi in un certo momento della vita di uno spazio riservato esclusivamente alla formazione all'acquisizione di strumenti per comprendere la realtà che poi tra l'altro diventa sempre più complessa e quindi avrebbe bisogno di strumenti sempre più performanti adesso cioè da quando invece c'è stata la scuola di massa ci vanno tutti mano a mano questa importanza si è voluta erodere in qualche modo si è voluta distruggere l'idea che bisognava riservare un momento della vita alla formazione all'acquisizione di strumenti di comprensione dalla realtà ma bisognava collegarla al mondo del lavoro perché sta formazione comunque doveva essere utile poi in qualche modo spendibile nel mercato del lavoro quindi questa è una cosa che andrebbe proprio rivendicata politicamente come abberrante e penso che le rivendicazioni che dobbiamo fare sopra proprio di carattere politico e vanno fatte in maniera complessiva riguardando il sistema nel suo complesso e io direi a partire dalla dignità degli spazi dei luoghi di apprendimento la scuola italiana nella maggior parte nella stragrande maggior parte dei casi proprio a livello di edilizia non è adeguata non ha spazi adeguati di apprendimento dignitosi io vi dico solo quest'ultima cosa e poi concludo invece come insegnante ho fatto due esperienze all'estero feci partecipare a un progetto Erasmus e sono andata a vedere proprio di persona le realtà cosiddette le eccellenze le eccellenze mondiali come la Finlandia l'Estonia questi paesi dove la digitalizzazione era spinta al massimo e dove i risultati ottenuti a livello di tutti poi i test mondiali erano sempre al top allora io mi sono resa conto in quel in quel contesto andando lì sul luogo parlando con con insegnanti con dirigenti con studiosi di didattica che il la la digitalizzazione era solo uno dei tasselli ma anzi direi il meno importante era un tassello quasi insignificante rispetto al contesto complessivo in cui l'apprendimento veniva fornito in cui gli spazi e gli ambienti di apprendimento avevano un'importanza straordinaria ed erano tali che noi in Italia neanche osiamo immaginare tanto per cominciare teniamo negli istituti tecnici i ragazzi che spesso sono non vicini alla scuola come sede di abitazione che quindi escono da casa magari alle 7 di mattina se non prima e ci ritorna alle 4 alle 5 del pomeriggio perché poi i mezzi di trasporto sono quelli che sono e li teniamo senza menze scolastiche senza un luogo dove neanche potersi fermare seduti a mangiare il panino che ti porti da casa lo tieni lo mangi il corridoio in cortile in piedi in Finlandia ho visto delle cose appunto che noi non immaginiamo ma giuste corrette perché per un ragazzo tra l'altro se vogliamo che questi ragazzi tutti abbiano delle buone opportunità soprattutto quelli che a casa non hanno la biblioteca non hanno la possibilità di fare scuola ecco insomma spazi in cui dalla mensa con davanti il bigliardino il salottino per rilassarti la piscina olimpionica gli ambienti dove poter andare in 3 o 4 a studiare a chiacchierare a fare i compiti cioè queste sono cose che noi dobbiamo cominciare a chiedere a pretendere perché una scuola senza dignità sia per gli insegnanti che per gli alunni non può garantire una formazione soprattutto e un apprendimento efficace che formi delle persone in grado di comprendere la complessità della realtà se non c'è veramente se non gli dai questa possibilità di vivere in un ambiente significativo dal punto di vista del benessere e della dello stare in un luogo dignitoso concludo con questo grazie darei la parola a Marina per la prima replica anche lei si si rapidissima perché con Marina abbiamo parlato tante volte di queste cose naturalmente concordo con quello che dice lei la scuola dovrebbe abituare al bello bisognerebbe vivere nel bello nella bellezza invece gli edifici scolastici e tutti gli annessi e connessi sono così insufficienti come dice lei quindi assolutamente sono d'accordo io credo che dobbiamo farne e concordo anche su questo una rivendicazione politica molto forte di tutta questa condizione di degrado e di diseducazione da tutti i punti di vista di studenti e studentesse grazie grazie Marina Piero per darci appuntamento anche le prossime sì allora il prossimo appuntamento sarà non vi dico la data esatta perché è un po' da definire ma ci sarà una lezione di Francesco Silos Labbini un fisico che ha creato il sito Roars come sapete quindi esperto delle questioni universitarie per cui dopo la scuola affronteremo il problema dell'università italiana nel quadro dell'università europea vorrei concludere però quindi naturalmente non vi mancherà l'informazione su questo prossimo appuntamento ma vorrei dire che togliendo la parola di bocca a Roberto che tutte queste lezioni si trovano nel sito di Transform Italia e che questa di Marina verrà come tutte le altre registrata e noi dovremmo farne uno strumento di diffusione nelle scuole italiane perché è davvero una lezione preziosa noi dovremmo riuscire a penetrare nelle scuole della della Repubblica l'audio è uno strumento uno strumento straordinario di conoscenza e di lotta politica grazie Marina grazie Roberto grazie a tutti voi alla prossima ciao 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 a tutti buonasera ciao ciao a tutti ciao ciao Rita ciao